Un'occasione per stare insieme, qui verrà anche proiettato il vostro video. Dal teatro ai dibattiti, dai murales al video reportage degli studenti del liceo scientifico Marconi di Pesaro. È un calendario ricco di iniziative, quello realizzato dall'associazione pesarese Libera Idee, in occasione della settimana contro le mafie, che si celebra nella regione Marche fino al 28 febbraio. Un modo di far nascere direttamente a scuola la consapevolezza sociale di un fenomeno da non sottovalutare mai. La scuola credo che sia il primo luogo per generare anticorpi contro la mafia. Noi siamo un territorio non indenne, il lavoro della mafia è sotto traccia, non dobbiamo abbassare la guardia. E quindi conoscere il linguaggio con cui opera, gli strumenti che utilizza è fondamentale. Questo noi cerchiamo di fare. Questa mattina è il primo appuntamento in radio per il report sulle mafie di Libera Idee dell'assessore al dialogo del comune di Pesaro Luca Bartolucci, il professore di religione del liceo scientifico Marconi di Pesaro Marco Decaolis e Marta Cecconi, presidente di Libera Pesaro. Domani ci si sposta a Urbino, dove alle 10 saranno inaugurati due murales dedicati a giustizia e legalità realizzati dagli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Raffaello. A tagliare il nastro il presidente della provincia Giuseppe Paolini e il sindaco di Urbino Maurizio Gambini. In seguito un'azione teatrale partecipata, diretta da Licetto Cacieli e realizzata dal laboratorio della scuola. Sabato 2 marzo, alle ore 20, il Circolo Arci di Villa Fastigi ospiterà la cena di autofinanziamento di Libera. Evento clou della settimana è il video reportage realizzato dagli studenti dei corsi complementari di giornalismo e tecniche fotografiche del liceo Marconi dal titolo «La mafia è una montagna di merda. Pesaro, i giovani e i cento passi contro le mafie». Sarà proiettato in prima visione per la città domenica 3 marzo, alle ore 17, alla Sala Rossa della Biblioteca San Giovanni di Pesaro. A presentare l'evento il sindaco Matteo Ricci, il preside dello scientifico Riccardo Rossini, Marta Cecconi di Libera e i docenti dei corsi complementari Emi Indini, Elisabetta Rossi e Giordano Rotatori. Da lunedì 4 marzo il video sarà proiettato in loop in un'installazione realizzata nell'atrio del comune di Pesaro.